Bentornati a Quala Zampa. Si dice che gli uomini si riconoscono da come trattano gli animali. Oggi la puntata la dedichiamo a Nerone. Nerone è un cane speciale perché ha avuto una storia incredibile. Siamo qua per lui perché per lui cerchiamo una casa. Come si trattano gli animali come si aiutano gli animali. Nerone è stato ritrovato e oggi a portarcelo è stata Aurora che peraltro è anche educatrice cinofila. Ciao Aurora. Ciao piacere. Senti e Nerone è stato ritrovato dove? Allora Nerone è stato trovato in autostrada sulla Salerno Reggio Calabria verso le 2 di notte sotto la pioggia che correva con un disperato con un cappio, un laccio spago praticamente intorno al collo che tra l'altro gli ha lasciato anche dei bei segni, da due ragazzi che stavano semplicemente tornando sull'anno seguito finché non si è fermato praticamente estremato. Dopodiché l'hanno caricato in macchina e l'hanno portato su fino a Udine dal veterinario. Quindi c'è una veterinaria che l'ha visto, che c'è peraltro il numero che vedete in sovraimpressione proprio della veterinaria per l'adozione perché so che è un'adozione impegnativa. Nerone è un cane di grandi volumi però tu che sei educatrice ci puoi dire anche bene com'è il carattere di Nerone? Allora Nerone è un cane che è evidentemente giovane, almeno la veterinaria stima più o meno dalla dentatura, dovrebbe avere sui 2-3 anni circa, che evidentemente non è mai stato trattato, insomma non ha mai avuto a che fare con degli esseri umani se non per le botte perché ha delle grosse, ha delle difficoltà a farsi toccare, ha paura però è un cane buonissimo. Cerca disperatamente la compagnia di altri cani, per cui probabilmente è stato in compagnia di altri cani. È un cane molto buono, nel senso che proprio si fa fare di tutto, si fa manipolare, si fa toccare, gioca felicemente con altri cani, non è aggressivo assolutamente, va solo un attimino seguito, educato nel senso proprio che ha bisogno di affetto, adesso sta provando per la prima volta delle emozioni che non ha mai provato e comincia ad essere felice, a giocare, proprio lo vedi è un gran cucciolone, è un buon cane insomma. Insomma, Nerone, magari un giardino, un salotto, una zampa sul cuore come diciamo noi, una mano sul cuore e aspettiamo la telefonata. Grazie Aurora. Grazie.